4 milioni di euro per la ristrutturazione di 26 asili nido in Sicilia. È stata pubblicata dall'assessorato della famiglia e delle politiche sociali la graduatoria dei lavori ammessi a finanziamento per complessivi 3.983.168 euro. Si tratta del Fondo Nazionale per le politiche della famiglia per la concessione di aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia. Continuiamo a perseguire l'obiettivo di incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia, dichiara l'assessore alla famiglia Nuccia Albano. Ciò contribuirà a potenziare le misure già messe in atto dalla regione siciliana finalizzate a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e privata e a incentivare l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. I beneficiari del finanziamento inseriti in graduatoria sono tutte cooperative e sociali del terzo settore.